La storia industriale di Milano in alcune puntate. Carle e Montanari Si tratta dell'azienda leader a livello mondiale della progettazione e installazione di impianti completi per la lavorazione del cioccolato e delle caramelle. La vecchia sede di Via Neera, costituita da due vecchi fabbricati in disuso da anni, è stata trasformata sulla base di quanto previsto dal nuovo regolamento edilizio del Comune di Milano, in equivalente volumetria di edilizia residenziale. L'attività industriale era già da tempo stata delocalizzata a Rozzano, anche se, per la peculiarità del lavoro, buona parte venne realizzata direttamente in fase di montaggio dei macchinari. Boeringer Ingelheim La Boeringer Ingelheim Italia ha un importante centro di ricerca sui nuovi farmaci al vigentino, proseguendo l'attività dell'Istituto De Angeli, che già nel 1929 disponeva di strutture di ricerca chimica. Carlo De Angeli fondò l'Istituto, poi rilevato da Boeringer, prima parzialmente nel 1963 e poi totalmente nel 1971. Nel centro chimico operano 30 ricercatori, specializzati nella ottimizzazione delle molecole. Con le nuove tecnologie chimiche, sopportate dalle lavorazioni elettroniche, si ottengono 2.500-3.000 nuove molecole all'anno contro le 200 all'anno che si ottenevano in passato. Chimica combinatoriale e sintosi parallela sono le due principali tecniche usate. Il gruppo ha 32.000 dipendenti nel mondo e stabilimenti produttivi, fra l'altro anche in provincia di Firenze e di Bergamo, mentre tutte le funzioni direzionali sono allocate a Milano. Nell'area dell'ex OM è stata recentemente aperta una nuova via intitolata all'industriale farmaceutico Carlo De Angeli. Boeringer vanta una lunga presenza in zona 5 perché, già nel 1874, la fabbrica lombarda dei prodotti chimici, assorbita poi dall'Unione con Cimi nel 1913, faceva capo al gruppo tedesco. www.redigio.it E la storia continua